Dal 3 aprile al 27 maggio a Padova un giro d'orizzonte nella coreografia contemporanea nel teatro e nel cinema documentaristico. Artisti italiani e non si confrontano in seminari, laboratori e conferenze. È Prospettiva Danza 2008. Ci muoviamo come se gli altri non esistessero. Noi non riusciamo a prendere sul serio nessuna ressurrezione. Un happening articolato e multiforme, profondamente contemporaneo nelle sue proposte, ispirato a nuovi linguaggi e contaminazioni, nel segno di un dialogo sempre più aperto fra culture, linguaggi ed arte. Per quasi due mesi, a partire da fine marzo, Padova verrà vissuta come un teatro diffuso, luogo consacrato alle più diverse espressioni del linguaggio del corpo, cercando di coinvolgere il più possibile la città e il suo tessuto culturale nel sortilegio della danza. Continua anche quest'anno, devo dire, in una formula ancora più articolata. E quindi ci sono i grandi appuntamenti con la danza al Teatro Verdi. Quindi il 2 aprile, il 23 e il 25 di maggio ospiteremo tre grandi compagnie internazionali, un americano, una spagnola e una israeliana. E con queste compagnie veramente sono degli appuntamenti unici nel Veneto, quindi vale veramente la pena assistere a questi grandi spettacoli. E in più quest'anno una grande novità, in aggiunta all'anno scorso, il 29 di marzo, apriremo con una grande festa in piazza dei signori, un momento di incursione urbana, un piccolo corteo che ci condurrà verso Piazzetta San Nicolò e poi un grande spettacolo multivisivo. Nella piazzetta dedicato all'arte femminile. Lo straordinario impatto visivo delle architetture in movimento, l'intensità dei danzatori e l'entusiasmo dei giovani artisti che si avvicinano a queste discipline, rende Prospettiva Danza un appuntamento veramente da seguire. Anche questa edizione propone un programma piuttosto ricco. Una delle compagnie ospiti è l'americana Pascal Rieu Dance Theater con un progetto interessante sulle musiche di Ravel. Dalla Spagna, nella loro unica data italiana, ci saranno il 23 aprile i danzatori del Gelabert a Zopardi con Caravan, mentre rifletteranno sulla condizione dell'uomo e sul tempo i ballerini israeliani della Kibbutz Contemporary Dance Company. Dall'Italia a maggio si esibiranno invece la compagnia Virgilio Sieni e il nostrano teatro dell'Hemming. Non mancheranno le occasioni di formazione con il palcoscenico in classe e poi, per i futuri artisti, la selezione finale e la premiazione del concorso Giovane Danza d'Autore Anticorpi XL. La danza è solo in apparenza arte del corpo, è arte di un corpo che pensa a mettere in azione tutto se stesso per trasmettere emozioni, riflessioni e sentimenti. Nata con l'uomo, la danza è indissolubilmente intrecciata alla sua storia, dal balletto alla danza moderna ai nuovi codici di movimento. Oggi la danza va incontro all'arte nello stesso modo in cui va incontro alla vita, in performance, installazioni e forme in cui il movimento convive senza più etichette di arte scenica o arte visiva. Eppure spesso, ingabbiata dal tubo catodico, in iniziative che contribuiscono forse a promuovere la danza, forse a distorcerne il valore. Queste iniziative, secondo lei, aiutano o di fatto allontanano le persone dalla danza, intesa come arte? Ma io credo che fondamentalmente aiutino, perché comunque la televisione è il più grande mezzo di divulgazione, quindi sicuramente la danza portata in tv non fa che bene. Certo, bisogna comunque distinguere che poi c'è una grande danza che viene solamente portata nei teatri, che non va mai persa di vista, proprio per un progetto culturale più ampio. Quindi benvengano le iniziative legate alla tv, a tutte le trasmissioni, quali amici, eccetera, ma poi che questo possa proseguire all'interno dei teatri, che devo dire sono dei luoghi sacri per la danza e per il teatro in genere. Grazie.